benvenuti in questo nuovissimo video di questo nuovissimo video che parlerò come sempre della mia vita e oggi parleremo della mia situazione d'amore non c'ho una ragazza mi piacciono alcune ragazze le mie ragazze più belle sono che hanno capelli biondi occhi verdi o marroni con la voce normale senza occhiali e che gli piace essere energetica oppure piace qualche sport tipo come la pallavolo eccetera e mi piace una mamma fidanzata la vorrei avere ma non sono pronto questa è una vita sentimentale sto piangendo ragazzi ci vediamo al prossimo video